Non è così la proposta, scusate, oggi si sente dire che sopra i 1500 euro di prelievo sui banco, ma tu hai una tassazione e una commissione più alta. Allora dico, mia madre ha 84 anni, per mia mamma se non hai soldi incontanti nel portafogli, lei non ha i soldi, perché dobbiamo anche rispettare quei milioni di pensionati, di persone che hanno vissuto in una certa maniera e che non sono abituati. Quest'estate mia madre è venuta al mare preoccupatissima perché dice non ho soldi, dico ma mamma hai la carta di credito, hai il banco, ma dice non è mica la stessa cosa, perché c'è un certo modo di abitudine, chi siamo noi per dire che adesso no, signori si paga soltanto con le carte di credito col banco. Poi voglio dire che l'evasione fiscale, Mughini, non lo fanno quelle persone, le fanno le multinazionali, le fanno le grandissime aziende che non pagano le tasse, che mettono le sedi all'estero. E va bene, ma da italiano scusimi, Mughini, non dobbiamo pensare... Allora, siccome io penso che gli italiani sia un popolo onesto e perbene, io ho una visione diversa, non penso che tutti siano evasori fiscali. Nessuno lo ha detto. E soprattutto non sono quelli che prelevano 2.000 euro, il contante dal banco, Matt. Nessuno lo ha detto tutti, ma alcuni sì, alcuni lo sono sicuramente. Non sono quelli che si possono guardare. Allora, siccome io volevo... Grazie a tutti.